In un attimo tutto può cambiare. È un film da me scritto e diretto che partecipa al Festival Rai I Tulipani di Seta Nera. È un festival che si occupa di cinematografia sociale. Noi siamo stati felicissimi quando ci hanno comunicato che siamo stati selezionati su 400 opere a livello internazionale. Questo film parla di Davide, un giovane che rimane disabile in seguito a un incidente. Davide è interpretato da grande Ivan Cottini. A fianco a lui abbiamo altri importanti attori come Melissa Mill, Giovanni Libro, Giancarlo Guastalla, Manrico Caldari e Antonella Splendore. Io interpreto Alex, una figura enigmatica all'interno di questa storia che sarà fondamentale per il cambiamento di Davide. Questa è stata la mia prima esperienza cinematografica, anche se in realtà calco il palcoscenico come attore da quando avevo sei anni e da sedici anni sono ballerino e coreografo. Tra le varie esperienze una che porto nel cuore è quella di aiuto coreografo durante i concerti di Vasco Rossi. Nel cortometraggio io interpreto il personaggio di Giada, la fidanzata storica di Davide. Amo il mondo dell'arte, infatti ho iniziato a studiare danza da piccolissima e poi in seguito recitazione e canto. Ho iniziato come figurazione speciale per i film di Pupi Avati e poi in seguito mi sono appassionata tantissimo alla recitazione. Ho preso parte poi a delle produzioni cinematografiche, anche internazionali, e l'ultima è questo bellissimo cortometraggio con Ivan Cottini. Oltre al cast degli attori che vi ho già presentato, in questo film hanno lavorato Amato Ballante, che ha curato le foto di scena e il backstage video, e poi abbiamo Andrea Furlani, che ha curato la fotografia e il montaggio, e Chiara Volpi, che ha creato la bellissima Locandina. Al mio fianco abbiamo Lorenzo Rotella. Lorenzo è un giovane cantautore che ho conosciuto diversi anni fa e con lui abbiamo aperto anche una scuola di recitazione e doppiaggio a Roma e ho avuto la fortuna di averlo anche come compositore nel cortometraggio. In un attimo tutto può cambiare. È stato veramente emozionante poter lavorare alle musiche per questo cortometraggio, poter stare sul set insieme agli attori e vivere l'esperienza appunto dietro le quinte. Ho sempre composto musica fin da quando ero piccolo, insieme al maestro Fabrizio Palma di Amici, ma ho sempre composto canzoni e singoli. In questo caso è stato bellissimo poter tradurre le immagini in musica. Sono tanto felice della mia prima volta da attore e devo ringraziare tutta la squadra, la regia di Rita Giancona che ha costruito questo cortometraggio in base alle mie esigenze. Infatti ritagliavamo gli spazi tra le mie terapie e i ricoveri in ospedale e la maggior parte delle scene sono state girate qui dentro casa. Quindi incrociamo le dita e il 7 maggio si saprà se riceveremo qualche premio. E incrociamo le dita insieme a Ivan Cottini e ringraziamo la redazione di Rossini TV che ci ha dato questa opportunità, ringraziamo tutti i telespettatori e vi invitiamo a visualizzare il sito dei Tulipani di Seta Nera. In questo sito troverete il nostro film. In un attimo tutto può cambiare. Più visualizzazioni e più opportunità avremo di vincere il premio Rai Channel. Grazie.